partiti Mary Bambi in vantaggio presto scavalcata all'esterno da Ismael che si porta a condurre davanti a Mary Bambi, San l'imperatrice poi all'esterno Katherine Piper, ancora Nanga Jambu che avanza all'esterno con in coda Bionda Luna e Bridge Shana Sand cavalli ora lungo l'arco della curva con Ismael al comando Mary Bambi in seconda posizione avendo all'esterno Nanga Jambu poi sal l'imperatrice ancora Katherine Piper Bionda Luna e Bridge Shana Sand siamo in retta di arrivo con Ismael che figura in vantaggio Mary Bambi nella sua scia con all'esterno Nanga Jambu più all'esterno avanza ora decisa San l'imperatrice in anticipo su Katherine Piper e Bridge Shana Sand siamo a 300 dal palo in vantaggio si mantiene ancora Ismael nei confronti di San l'imperatrice che ci prova nel tratto finale all'interno Ismael all'arco San l'imperatrice e sul palo Ismael mantiene la meglio nei confronti di San l'imperatrice poi terza Katherine Piper su Bridge Shana Sand rivediamo ora le immagini con il numero 5 e Salvo Basile a bersaglio in questa seconda corsa di Napoli al posto d'onore San l'imperatrice con il numero 8 al terzo il 3 di Katherine Piper quindi alla seconda di Napoli l'ordine d'arrivo l'ufficioso è 5 8 3 l'imperatrice